E così diventai YouTube Partner dopo un mese e mezzo di attività. Grazie a tutti, vi voglio bene anch'io. Sto attivando gli abbonamenti. Che cosa significa? Che ci sono una serie di vantaggi che offrirò alle persone che decidono di iscriversi al primo o al secondo livello. Adesso, per quanto riguarda il primo livello c'è un casino di roba e ora ci arrivo. Però per quanto riguarda il secondo c'è un supporto tecnico, anche telefonico, in priorità alta. In sostanza è quello. Qualsiasi problema, o anche una consulenza, se vuoi una consulenza sulla sicurezza informatica, sull'informatica in genere. Se pensi che la tua ragazza ti sta tradendo, il tuo ragazzo ti sta tradendo, non mi manda un messaggio. Che mi è successo? Quattro persone mi hanno contattato, è illegale, non mi rompete i coglioni. Se pensi che ti stanno tradendo, lascialo o lasciala e finisce là la storia. La monogamia è un mito. Mettiamoci una pietra sopra. Io e il mio andare off topic non riuscirò mai a fare niente di ufficiale né a prendere le cose sul serio, ma va bene così. Ti piaccio per questo motivo. Allora, che cosa facciamo? Che cosa c'è nel... che cosa offro nel primo livello? D'abbonato avrei accesso... ah, la sto leggendo perché non l'ho memorizzato tutto, c'è un sacco di roba. D'abbonato avrei accesso anticipato ai nuovi video di 24 ore e le richieste che mi vengono fatte sui nuovi video avranno quelle un vantaggio prioritario tramite sondaggio. Ciò significa che farò un sondaggio più o meno una volta alla settimana sulla mia lista di 10-20 video che ho intenzione da fare. Quello che prende più voti tra gli abbonati è quello che vince, è quello che faccio prima. Alcuni di questi video potrebbero essere disponibili esclusivamente agli abbonati, ne discutiamo internos, ma è ancora da vedere. Se c'è una cosa che è veramente di nicchia e non aiuta alla crescita del canale, però mi diceva Dream, mi serve veramente questa cosa, ci mettiamo d'accordo e metto sul video. Se fa parte di qualcosa di più grosso, allora, sono flessibile, faccio magari un corso su Teachable e poi, e ritorno qua, ci sono, e ci torniamo su un altro vantaggio, che è il fatto che ci sono sconti esclusivamente disponibili agli abbonati di YouTube. Sconti che non sono disponibili pubblicamente, come solitamente faccio nei video di YouTube normalmente. Già nel primo post c'è uno sconto sul bundle InfoSec, quindi ti scrivi e già risparmi tipo il 50% sul bundle InfoSec, per dire. Però non c'è solo questo, ci sono altri vantaggi, perché sono masochista, devo se non lavoro 70 ore alla settimana, non sono io. C'è anche, tra tutti questi vantaggi, ci sono anche delle emoji personalizzate, ci saranno anche una risposta prioritaria ai commenti che già riesco a malapena gestire, l'altra settimana ho passato 6 ore a rispondere ai commenti, quindi immagino che tra qualche mese diventerà impossibile. Soprattutto se tratto più temi culturali, della cyber security, che quelli relativi agli aspetti tecnici, che fanno sempre meno visualizzazioni. Non è che se non sei abbonato ti ignoro, semplicemente c'è una priorità maggiore rispetto a chi non è abbonato. Però questo dipenderà principalmente da quanto crescerà il canale e sinceramente non ho un'idea. Siamo 50 milioni in Italia, 25 milioni sono donne, immagino non più di 25 milioni nel caso fossimo tutti interessati all'informatica, diventassimo tutti interessati all'informatica, nello specifico della sicurezza informatica. Nessuno avrà più una vita. E ricorda che ho sempre ragione, tranne quando mi sbaglio. Che è mai. Più o meno. Grazie e torno a caricare nuovi video.